Quando nasce la guerra? La guerra probabilmente è nata nel Neolitico, in cui l'uomo inizia a coltivare a terra e avere la necessità di recintare il territorio oggetto del suo lavoro, perché i frutti del suo lavoro non vengano utilizzati da persone che non avevano lavorato la sua terra. I nomadi iniziano i conflitti fra nomadi e sedentari. Ciao, al prossimo video! Vi aspetto! Grazie! 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 Grazie!